Guardalo lì come beve, tornati da una bella passeggiatina di qualche chilometro, il ragazzo sta diventando un atleta. Pando! Adesso il flash, Pando! Mi volevo far vedere questa situazione qui, il flash fa gli occhi gialli, mi faccio vedere questa situazione. Guardalo lì, guardalo, il mastino! Vi faccio vedere questa situazione, veri filetti gialli di pollo naturale con fegatini, fanno queste chicche, stai zitta, c'è la palombella, stai zitta, stai zitta. Rite 4, la palombella, qua politica, 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 cazzate, 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 allora, stai zitta, palombella. Infatti che io metto 8 e mezzo, la lì, lì, capito? Questo qui ha alimento completamente complementare per cani adulti, filetto di pollo con fegatini! Eh? Io lo butto in mezzo alle scroche. Eh? Eh? Fan delle robe adesso che fan paura, eh? Senza aggiunta di coloranti. Cosa sta combinando? Cosa stai combinando? Ciao!